Tanti i protagonisti della scena economico-culturale della capitale, noti al grande pubblico. Meno conosciuti sono coloro che operano dietro le quinte, per il rilancio, la tutela e lo sviluppo del centro storico di Roma. Uno di questi è certamente Roberto Wirth, presidente e direttore generale dell'Asder Roma, classe 1950, alla quinta generazione di gestori di albergo della sua famiglia. Per quasi due secoli, infatti, la famiglia Buecher-Wirt ha lasciato il segno nel settore dell'ospitalità gestendo alberghi di prestigio in Italia, in Svizzera e in Egitto. La dinastia cominciò con Franz Josef Buecher, considerato uno dei pionieri dell'industria alberghiera in Europa. La sua vera passione è gli alberghi e, grazie alla sua lungimiranza, ben presto capì che gli hotel in città sarebbero stati più redditizi rispetto a quelli situati nei luoghi di villeggiatura. Nel 1890, Franz Josef Buecher incaricò il genero Heinrich Wirth di recarsi a Roma per prendere in gestione l'albergo Minerva e successivamente assumere la direzione dell'hotel Quirinale, acquistato da Buecher nel 1894. Sotto la direzione di Wirth, l'albergo prosperò e divenne ben presto uno dei più prestigiosi della città di Roma. Dal matrimonio tra Heinrich Wirth e Cristina Buecher, nacque Oscar, padre di Roberto Wirth, incaricato di gestire l'Hassler Roma nel 1921, in qualità di partner di un altro albergatore svizzero, Alberto Hasler, diventando in seguito l'unico proprietario del prestigioso albergo. La posizione eccellente dell'Hassler Roma, in cima alla scalinata di Piazza di Spagna, accanto alla chiesa di Trinità dei Monti, gli fornì un potenziale illimitato. Nel 1939 Oscar Wirth demolì quasi interamente l'edificio per ricostruirlo. Il nuovo Hasler Roma fu riaperto al pubblico nel 1947. Nel 1949 Oscar Wirth, durante un viaggio di lavoro a New York, conobbe e si innamorò di Carmen Buecher. Nell'agosto dello stesso anno la coppia si sposò, unendo quindi per la seconda volta in meno di un secolo i destini di due grandi famiglie di albergatori. Nel maggio del 1950 nacque Roberto Wirth. Oggi Roberto Wirth, unico proprietario, considera l'Hassler Roma la sua passione, la sua casa e l'eredità di famiglia. Il suo impegno, la sua dedizione e il suo tocco personale ha permesso all'albergo di essere considerato uno dei migliori d'Europa e meta preferita dei viaggi a Roma. Nel 2003 Roberto Wirth è stato nominato presidente dell'Associazione di Piazza di Spagna e di Trinità dei Monti, che rappresenta i proprietari che operano nell'area, diventando poi presidente onorario nell'agosto 2012. L'associazione si occupa degli interessi degli associati, ossia dei commercianti di zona e di sensibilizzare le pubbliche autorità comunali ai problemi di sicurezza, degrado, bivacco e venditori ambulanti, al fine di ottenere miglioramenti in vivibilità, immagine e servizi dell'intera area. L'intento di Roberto Wirth e dell'Associazione Piazza di Spagna e di Trinità dei Monti è quello di rendere la piazza più bella del mondo un luogo sicuro ed accessibile, collaborando al meglio con il comune per offrire un'immagine positiva di Roma in tutto il mondo. Grazie per la visione!